Le voci dell'Europa, quelle che da ogni suo angolo, nei secoli, al di là di ogni frontiera, etnia, lingua, sono state l'anima dei nostri popoli, hanno riempito il circolo dei lettori il 14 maggio. Lo spettacolo, promosso dalla consulta europea del Consiglio regionale nell'ambito del progetto Europuzzle e realizzato dall'Accademia dei Folli, ha visto alternarsi letture di pagine tratte dalla letteratura europea e brani musicali eseguiti dal vivo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.